L'emozione del premio è il lavoro che fai con tutto il tuo team e con tutti i prodotti che comandi ogni giorno da oltre 72 rifornitori e la più grande rivoluzione è saper fare quello che fai ogni giorno senza perdere la passione, senza perdere il merito, senza perdere le emozioni io sono ancora emozionato per cui io quando domani ritorno all'acquarello è come ricominciare io ricomincio domani. La cucina italiana è cambiata per via dell'interpretazione prima di tutto inizia da Gualtiero Marchesi, lasciatemi ricordare il mio maestro Gualtiero Marchesi che ha trasformato la ristorazione italiana fuori dalle mure nazionali per cui è questa ricerca, la cucina italiana come dicevo è fatta, ogni 50 km cambia nel territorio per cui la cucina, non esiste la cucina italiana, esiste la cucina regionale italiana e io sono un console della cucina regionale italiana e in heaven, in nature singe, in heaven in nature singe e in heaven in nature singe a Grazie a tutti